Giorni di grande spiritualità e devozione, quelli che saranno vissuti a Castel Belice, a 15 chilometri circa da Marianopoli, dove anche quest'anno si rinnovano i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Ogni anno, il 3 maggio, nella giornata che il calendario liturgico cattolico dedica all'invenzione della Santa Croce, infatti diverse migliaia di pellegrini, spesso a piedi, talora scalzi, si recono a rendere omaggio al crocifisso oligno scolpito nel XVII secolo da frate Innocenzo da Petralia. Gli abitanti di Marianopoli sono certamente i maggiori frequentatori del santuario, ma in occasione dei festeggiamenti arrivano fedeli anche dalla vicina Villalba, Vallelunga, Resuttano, dagli altri paesi della diocesi Nissena e dai paesi delle Madionie. I festeggiamenti prenderanno il via giovedì, 1 maggio, quando la chiesa sarà aperta fin dal primo mattino per accogliere i pellegrini. Alle ore 11.30 sarà celebrata dall'arciprete di Marianopoli, Don Giuseppe di Rocco, la prima Santa Messa, mentre alle ore 15.30 partirà dalla chiesa madre di Marianopoli il pellegrinaggio a piedi attraverso i campi. Due ore di cammino durante il quale i fedeli reciteranno l'antico rosario dei mille volti di Gesù. Al viaggio quest'anno si aggiungeranno anche i pellegrini di San Cataldo che parteciperanno al cammino di Belici, a piedi fin dal mattino quando partiranno da San Cataldo per giungere sino al santuario. Alle ore 18.30 nel cortile del Castelbelici sarà invece celebrata la Santa Messa dal vicario generale Monsignor Giuseppe La Placa, momento che concluderà la prima giornata dei festeggiamenti. Venerdì 2 maggio alle ore 18 si terranno invece i Vespri Solenni seguiti dalla Santa Messa. I festeggiamenti entreranno nel vivo sabato 3 maggio. La giornata prenderà il via con la Santa Messa delle ore 8.30 seguita da quella delle ore 9.30, mentre la Messa delle ore 11.30 sarà celebrata dal Vescovo di Caltanissetta Monsignor Mario Russotto. Subito dopo, intorno alle ore 12.30, prenderà il via la suggestiva processione col Santissimo Crocifisso. Alle ore 18.00 l'ultima Santa Messa della giornata sarà celebrata nel cortile del Santuario dall'arciprete Don Giuseppe di Rocco. Inoltre per i tanti pellegrini che volessero recarsi al Santuario e rendere onore al Santissimo Crocifisso, si informa che da domenica 4 maggio sino all'ultima domenica di settembre, alle ore 17.30 sarà celebrata la Santa Messa.